ciao a tutti faccio questo video perché volevo ringraziarvi veramente di cuore a tutti voi che non mi conoscete e a quelli che hanno avuto la possibilità di conoscermi e ci siamo incontrati uno di questi l'ultimo è stato Eugenio che ci siamo incontrati per caso quando sono andato in Liguria un po' come hanno fatto altri mi ha chiamato in strada era in bici e mi ha chiamato e mi ha detto migliora Orbis allora mi sono girato subito e mi ha fatto felice mi ha fatto molto felice come anche altri che quando sono andato in Veneto mi hanno chiamato migliora Orbis o in altre regioni in altri posti per caso magari ci incontriamo e questo mi fa molto 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 piacere con Eugenio abbiamo parlato del canale mi ha fatto tanti tanti complimenti io ne ho fatti a lui l'ho ringraziato tantissimo come ringrazio a voi abbiamo parlato del canale e della casa del lavoro che ho fatto e vedo degli interessi che abbiamo ecco dell'interesse che abbiamo in comune fra noi fra tutti noi fra voi iscritti al canale che siamo adesso proprio una comunità che hanno gli stessi interessi e questo era praticamente il mio uno dei miei obiettivi era quello di condividere il mio sapere e aiutare essere utile a voi e trovare anche delle persone uguali uguali a me con con i miei stessi interessi e con i miei stessi anche pensieri miei stessi obiettivi e questo mi fa molto piacere anche perché siamo in tanti io non mi saremmo aspettato così così tanti iscritti e continuano continuate a crescere e mi fa mi fa tanto 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 piacere è bello incontrarvi di persona di persona spero che lo sia anche per voi quando ci incontriamo e spero di incontrare anche gli altri che ancora non non ho incontrato ecco magari più avanti chissà riuscirò magari a fare anche degli incontri un po più strutturati e non così per caso nei posti dove vado ecco spero che questo video vi abbia fatto piacere come ha fatto tanto piacere a me grazie di cuore di nuovo a tutti voi e ci rivediamo per con altri video ciao a tutti ciao a tutti